Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, anch'io da parlamentare eletto nel Comune di Ciampino, come il collega Fiano, ho appreso da alcuni organi di stampa che lo scrittore Pietro Cappellari sarà relatore nella commemorazione del Comune di Ciampino nella giornata del ricordo del 10 di febbraio. Anch'io ho delle perplessità e vorrei far risuonare in quest'Aula le parole di alcuni cittadini che hanno scritto una lettera alla sindaca Daniela Ballico. I cittadini scrivono, riteniamo quantomeno inopportuna tale scelta, che evidentemente punta a dividere più che a unire. Il male non può essere raccontato di chi si dichiara ammiratore di dittature, di qualsiasi ispirazione. Ciampino, ricordiamo, è una città votata alla pace dei popoli, alla democrazia, alla libertà per i segni che ancora porta del conflitto mondiale, scolpiti nelle rovine dell'Istituto Gesù Divino Operaio. Quindi non posso che condividere l'appello di dare spazio nel Comune a iniziative culturali che siano inclusive, rappacificanti, che generano dibattiti costruttivi. Lancio anch'io un appello all'amministrazione a ritirare l'invito al signor Pietro Cappellari. Facciamo in modo che le celebrazioni e la giornata del ricordo si mantenga nella memoria e nella sensibilità della comunità per il suo richiamo ai più alti valori dell'Italia, democratica e repubblicana. Grazie Presidente. Grazie a lei, onorevole Bella.